Una tradizione ereditata dalla profonda cultura siciliana è certamente quella dei pupi di zucchero, statuette antropomorfe, cave dentro e decorate fuori, le cui forme tipiche sono quelle legate all'opera dei pupi, cioè dei paladini di Francia. Si tratta di autentici capolavori, perfino troppo belli per essere mangiati. L'ordine di questi dolci è davvero particolari, amatissimi soprattutto dai bambini che li ricevono in dono nella festa dei morti, si può far risalire addirittura ai tempi degli arabi, oppure a un'idea dei marinai palermitani di ritorno da Venezia nel 1574. Questi marinai che tornavano da Venezia, dove un tavolo importante, hanno visto queste sculture di zucchero e lo zucchero in quegli anni, parliamo della metà del Cinquecento, lo zucchero era prezioso, quindi erano tavole veramente di gran pregio. Allora tornano questi marinai in Sicilia e dicono ma guardate che a Venezia le tavole li decorano con lo zucchero e da lì inizia questa storia, questi cuochi che si cimentano a cuocere lo zucchero, colarlo nelle forme, lasciarli all'interno vuote perché sennò sarebbero state un massacro di zucchero e dopodiché passare alla decorazione. I pupi e le pupe di zucchero sono tra i dolci che venivano donati ai bambini la mattina del 2 novembre in occasione della ricorrenza dei morti nel paniere di dolci con al suo interno la frutta martorana a base di pasta di mandorle e magistralmente modellata e colorata. Altra tipicità di questo periodo, che ancora oggi si può trovare ad erice, sono le ossa dei morti a base di vino cotto, miele e cannella. Una vera delizia per il palato, come tutte le altre bontà che riempiono le case in occasione della ricorrenza dei defunti per la gioia di grandi e piccini. Per ricordare chi non c'è più all'insegna della tradizione e dei legami generazionali che possono anche essere rinsaldati in una semplice filastrocca ripetuta davanti le case, come ancora oggi a Viena ad erice, dove la sera dell'1 novembre si rinnova la tradizione di una filastrocca che ci porta indietro nel tempo di molti anni. I piccoli muntisi vanno praticamente in giro per il paese cantando una vecchia filastrocca tramandata di generazione in generazione, con quel rapiti li porti che vennoli morti che fa da sottofondo, da un portone all'altro. Un modo per ricordare la notte in cui, secondo la tradizione, i morti fanno il giro delle case per andare a trovare i loro parenti portando dei doni, trasmettendo così ai bambini il legame con i loro cari che non ci sono più.